Il 29 maggio partiranno i lavori di delocalizzazione del depuratore del porto di Termoli, un passo di rilievo prevista l'esecuzione dell'intervento già programmato nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, la cui spesa complessiva, prevista di 7 milioni e mezzo di euro, sarà per circa 3 milioni e 800 mila euro finanziata con fondi per lo sviluppo e la coesione e per la restante parte da Acea, a cui è affidato il servizio idrico e fognario. Per l'intervento, a inizio febbraio 2024, è stata completata la fase autorizzativa. Nel 2019 erano stati ultimati i lavori di realizzazione del depuratore Sinarca, che entrando in funzione ha garantito una notevole riduzione del carico di refri affluenti al depuratore del porto. Poco meno di due mesi fa era stato firmato il decreto di esproprio per pubblica utilità dei terreni necessari agli interventi, finanziati nell'ambito del piano operativo gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il sito attuale del depuratore, spesso al centro di polemiche per odori nauseabondi, protetto solo da un muraglione ma visibile dal borgo, avrà un futuro diverso. È previsto un progetto di rigenerazione a fini turistici. Intanto il countdown per i lavori di localizzazione nella zona di Pantano Basso è iniziato.